Hub Tessile, via al cantiere. Serviziale a alto gradimento. Mercati puliti, il progetto ecomercato. Decoro urbano, tempo di guerriglia. Taric, nuovi comuni. Iniziati i lavori per la costruzione del textile hub di Prato. Il progetto prevede la realizzazione in via di bacia a vallo di un impianto di selezione automatica di rifiuti tessili post e preconsumo con capacità di circa 33.000 tonnellate all'anno per garantirne il successivo riutilizzo e riciclo. L'impianto nasce su quello che è un po' l'impostazione che ormai ha dato l'Europa sulla necessità di dare sostenibilità all'industria del tessile. Prato, su sollecitazione dell'amministrazione delle aziende del distritto si è candidata per realizzare uno degli hub in Toscana. L'impianto, del quale si è iniziato lo scavo delle fondamenta, entrerà in funzione nella prima metà del 2026. Alia Multi Utility si presenta anche a Prato come un'infrastruttura che aiuta le comunità a compiere la transizione energetica verso la circolarità. Sarà l'unico impianto del genere in Italia a servizio di un intero distretto produttivo. L'unico ad utilizzare l'intelligenza artificiale è una tecnologia infrarossi evoluta per la cernita, per colore e per composizione dei vari materiali tessili. Il 94,9% degli utenti è soddisfatto del servizio offerto da Alia Multi Utility per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle città. Noi effettuiamo la Customer Satisfaction perché vogliamo meglio orientare le nostre strategie e le nostre scelte. L'indice di apprezzamento è in crescita rispetto al 90,4% registrato lo scorso anno e si distribuisce in modo territorialmente omogeneo. In particolare, fra i titolari di utenze domestiche, la soddisfazione è del 94,9% in provincia di Firenze, del 93,7% in provincia di Pistoia e del 97% in provincia di Prato. È quanto emerge dall'analisi di Customer Satisfaction, realizzata per Alia Multi Utility dall'Istituto Piepoli su un campione di 1.550 utenze domestiche e 201 utenze non domestiche. Non solo un livello di soddisfazione molto elevato, ma troviamo addirittura degli elementi di crescita anno su anno. Insomma, cresce costantemente il livello di soddisfazione nei confronti di questi servizi. Molto positivi anche i risultati che coinvolgono le utenze non domestiche. Si dichiara soddisfatto l'85,8% dei titolari, in crescita rispetto all'83,7% di un anno fa. Promosso anche il porta a porta, con più del 95% di gradimento espresso dagli intervistati delle utenze domestiche e oltre il 93% tra le utenze non domestiche. Aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata dei mercati settimanali sono gli obiettivi del protocollo Ecomercato, siglato dai comuni con Alia Multi Utility e le associazioni dei venditori ambulanti a Empoli, Montemurlo, Pistoia, Prato e Scandicci. Il progetto mira a migliorare la raccolta differenziata e a diminuire il tempo e la forza lavoro necessarie a ripulire le aree dei mercati. Stiamo cercando di sensibilizzarli, cercare di farli entrare nel gioco di squadra che stiamo attuando con questo progetto e lasciare le piazzole pulite e decorose. È già stata condotta una prima fase di sperimentazione per educare e informare gli ambulanti con la distribuzione di materiale informativo e la consegna di sacchi neri per la raccolta dei rifiuti non differenziabili e azzurri per la raccolta degli imballaggi e contenitori in plastica, alluminio, tetrapunk, che ha portato nei mercati centrali interessati a un incremento della raccolta differenziata. C'è stata grande collaborazione a parte dell'associazione di categoria e sostanzialmente il rifiuto che poi viene avviato a smaltimento rimane veramente residuale. Ritiro in corso lasciato da un incivile. Con questo avviso stampato su un appariscente adesivo giallo e nero attaccato su rifiuti abbandonati è partita a Firenze un'azione di guerriglia marketing contro chi lascia rifiuti per strada, che presso si estenderà a Empoli, Pistoia e Prato. Metteremo questa fascia che perlomeno farà capire agli utenti che ci sono altri modi di comportarsi che non siano questo qui. Non ha senso lasciare questo tipo di rifiuti per strada quando il ritiro è gratuito per tutti. L'iniziativa di Alia inserita nel piano di lancio di Alia App prevede, accanto alla promozione di nuovi servizi di pulizia e il coinvolgimento dei cittadini, strategie di comunicazione non convenzionali che dal basso puntano a responsabilizzare nella collaborazione e nella segnalazione di comportamenti non corretti. È tempo di TARIC, la tariffa corrispettiva nei comuni emerice di Poggio a Caiano e Carmignano, a Quarrata e a Campi Bisenzio. La TARIC, in linea con quanto richiesto dalla normativa europea applicata in Toscano in 18 comuni, partirà nei quattro territori dal primo gennaio del prossimo anno. Nei quattro comuni sono iniziate o in svolgimento le assemblee per informare i cittadini, così come sono in funzione sportelli dedicati per il ritiro del nuovo kit, composto da tre contenitori per carta e cartone organico e residuo non differenziabile, e sacchi per la raccolta di imballaggi e contenitori in plastica, metalli e tetrapack, dotati di strumenti digitali di rilevazione TAG.